Fa il culo Anche per un secondo l'hai fatta Dai si umili Suo pinguino raga è veramente forte cazzo Penta penguin non piiii Minchia è veramente veramente forte Ma e quindi ora ti sei buggato tutte cose Boh in realtà non lo so ma non mi interessa Non ti hai fatto niente Tanto l'avventura l'ho fatta dico Se devo rifarla la faccia col pinguino e basta Tanto se devo abbattere quelli difficili col pinguino è pure meglio Ah salvo Il culo è la missione quella Cioè l'obiettivo quello del trofeo Di fare un'intera gara Cioè di fare un intero giro anzi Tutto col boost Dove l'hai fatto? Non mi ricordo Vinci una gara con pucca Vinci 10 gare con pucca Ma si può fare ovunque no? Si bene o male si Si No ma io una vale tipo E fare questa cosa Che ne so Guarda forse Aspetta forse La pista migliore forse è pista cloaca Perchè è bella piena di curve E' bella piena di Cioè puoi dare a parere di continuo Quindi comunque il turbo lo mantieni Ma il vinci una gara vale anche online Si Ottimo Mi sa che sei buggata la stanza raga Dici? Si Vabbè Sì Io sto uscendo Si Usciamo Unitevi Fate Unitevi a me Unitevi a me Nooo Insieme domineremo il mondo Impossibile partecipare What? Vabbè aspetta aspetta vi invito Amici No ma sono già dentro No no ti ho visto che sei uscito Impossibile partecipare Allora invita Vabbè io esco direttamente In vita In vita E invita Zulele entrò Crispy Cracker entrò Libio E gli è vecchi e ti è più attento Dov'è il tasto PS? Dov'è il tasto PS? Aspetta che metto gli occhiali Ma tutto questo se ha la forza di andare via dal cantiere Doppi Fiale di Raw Amonee Amn Compa la prossima Se stiamo primo e secondo Andiamo a vincere la gara Mi chiacchè, guarda che lascio male Devo fare la seconda di petta pinguina, Amoni Vabbè, Amoni, tranzollo Ma se lo avessimo sicuramente La carità di salvo Ok La carità di salvo No, la carità, ma perché ancora l'ha vinta la gara Tanto c'era di ruo impossibile Qua arriviamo molti appiccicati, quindi impossibile Dici? Sicuro Qua si arriva tutti appiccicati Guarda quel petta pinguino, non ha stabile Guarda Gabby invece come si mette in pandan La sciarpina con la macchina Eh, bello La macchina di viola l'ho messa apposta Eh, appunto Eh, io pure, guarda, ho messo le ruote A tema acquatico Sì, infatti mancano le ruote fighe a me, non ruote fighe Ma perché? Aspetta, quanti soldi hai? Pochi Ho preso... Povero di merda Povero Come vado su qui Ma, Suka, ti fotto allegnato, vengo in via casellini in merda Ho preso anche lo squaletto Ho preso lo squaletto e la piada della skin di qua Dietri Ma ti fa schifo lo squaletto? No, mi piaceva lo squaletto Ah, ti piaceva? Mi piaceva l'aspetto Poi ho visto il statistico che ha detto Sì, ma che merda è? E' il mio 888 Lell Ah, poi è giusto sbloccare i personaggi Dico, mi è brutto che i personaggi non hanno bloccato Io più che altro me ne sto sbattendo di sbloccare i personaggi Se mi ricordo che vuoi giocare con lo squaletto che fai? Vabbè, io ovviamente Se mi giuro che è il main squaletto che fai? Certo Io do colpo che è uguale No, lui è il main squaletto E' andato a pulminare Casa mia, regole mie Certo Tu cos'è che sei? Main cosa? Esatto Dicca, oh, lì vi accanto con quella ultima e ti fai già paura Dicca, poi io qua non prendo male una cazzo di... Bastardo Non te l'ho fatto niente io No, dico chiunque... E' schiumi che... Bastardo Che cosa? Mi zitto Mi zitto Mi zitto, adesso che lancia missili Ma è buono, non è vero Ma sai che cazzo ti ho visto? Bastardo La becca di questo Guarda qualche finocchio di merda che ha provato a mettermi... La pozioncina nella scorciatoia La pozioncina nella scorciatoia Te l'ha messa? Mi zitto, c'è solo due, non una Qua c'è la scorciatoia? Sì Yes Mi ha metto un cazzo voi, eh? Io pensavo che ero un testo Sìììì E mi ha colpito una cosa blu Un doppiato, ma lo vado, che schizzo A posto Cattopra Ho recuperato... Allora, ho visto una cosa... Nella scorciatoia c'è un terriccio che ti fa rallentare tantissimo Però se tu lo salti... No, ma sui c'è ancora, raga! No, c'è il sui mio! C'è la gara ora! Non è crashato! No, non è crashato, chi è che ha detto che è crashato? Io pensavo che fosse crashato No, uno aveva reggiquittato, ma non ne aveva scritto No, siccome lui ha detto tipo... Ma sei dietro di me Facendo i saltelli ho recuperato uno che comunque era avanti... Eh, mira davanti quando c'era questo terriccio Lel Fate i saltelli Esatto, fumate Io ho derato e basta! Io ho derato! Io ho derato! Minchia, aspetta Gab, dimmi una cosa Io l'altro giorno sono andato da Playhouse Eh, siamo saluti Ci siamo messi un pochettino a parlare così a cazzo di cane E a un certo punto ci fu un tizio Un tizio che lavora lì da Playhouse Che mi fa... Eh, ma... Comunque... CTR è molto meno skill based rispetto a Mario Kart Tu cosa ne pensi? Questa qua è un Nintendo FAG Ah, ecco, infatti... Volevo sapere Perché io dico... Porca puttana CTR ha più che altro un sistema di velocità turbo e derapate salti e cazzate varie Che minchia... Fa sembrare... No, pah Infatti è pure che qua gli oggetti sono molto meno utili Quindi non puoi salvarti quello Ma siamo solo noi, no? Andiamo indietro Lo vedete anche voi? Lo scuolo bugato? Sì Bellissimo Bagato come? E' terribile Oddio, screen Ma fai lo screen Grazie